io non posso credere a quello che cazzo ho appena visto il napoli è appena ripassato in vantaggio ma la juventus poco fa con federico chiesa l'aveva pareggiata e voi lo sapete che io solitamente comincio a registrare al minuto 86 ma non mi sono perso nulla perché nel frattempo sto finendo di registrare la live reaction quindi se volete la mia reazione a tutto quello che è successo in questa partita vi chiedo semplicemente di lasciare una marea di mi piace di iscrivervi e di attivare la campanella niente di più facile mi rivolgo soprattutto a quelli che mi seguono sempre che apprezzano i contenuti di questo canale ma che ancora non l'hanno fatto a quelli che ancora non si sono iscritti iscrivetevi non sapete quanti contenuti vi perdete c'ho due canali di calcio e uno extra calcio è tornata la formula 1 canali in infobox o come sempre compariranno qui durante il video lasciate mi piace pure se in merito volete scusatemi il parere immancabile del buon fabio detto questo sportium lab dal link in descrizione pagina instagram clamorosa che parla di calcio dati statistici notizie curiosità aneddoti sulle partite analisi delle partite impostazione grafica pazzesca ma tantissimi biglietti vip soprattutto in palio per voi vi mandano gratuitamente allo stadio da vip lo ribadisco a vedere la vostra squadra del cuore semplicemente seguendoli e partecipando al loro contest non lasciatevi scappare questa opportunità sportium lab pagina instagram clamorosa dal link in descrizione è successo di tutto e di più ragazzi è successo di tutto e di più e sono curioso di vedere come reagiranno i detrattori di allegri e sapete per quale motivo perché oggi dire che la juventus non abbia giocato al calcio è una cavolata di quelle clamorosa volete sapere il mio parere sull'evento dell'anno no perché me lo state chiedendo tanti su instagram che ne pensi dell'intervista di chiara ferragni non me ne frega un cazzo ecco chiusa parentesi torniamo sul calcio giocato perché ribadisco non si può non non ci credo manco solo vedo che la juventus riesce a fare già sta partita perché ragazzi sono dieci partite di fila che beccamo un gol in live non ne possiamo beccare un ulteriore uno lo abbiamo mancato veramente per per pochissimo ma perché non era il minuto 86 e tecnicamente era 84 quando è stato fischiato il calcio il calcio di rigore e ragazzi oggi la juventus ha giocato a pallone dal primo a praticamente l'ultimo minuto ha giocato al calcio è stata una partita emozionante sotto ogni punto di vista abbiamo visto due squadre che se le sono date di santa ragione un napoli che ragazzi il 6 era se mamma mia è stato murato mamma mia comunque se stanno a mangiare i peggio col ragazzi miei la juventus se stanno a mangiare i peggio col e adesso entriamo anche nei meriti di quell'analisi sono partiti ragazzi a 3000 all'ora da una parte e dall'altra nel giro del minuto e mezzo abbiamo visto un'occasione per parte e già da là si capiva quello quello che poteva regalarci questa partita quindi ribadisco una partita veramente viva e ecco questo era il concetto che stavo esprimendo poi mi sono perso un attimo per strada per l'occasione della della juventus il 6 a 1 del mi ricordo manco a bei 6 gol rifilati al sassuolo hanno ridato una linfa una voglia ragazzi e una rabbia questo è una consapevolezza anche a questo napoli che è veramente incredibile quindi io già ve lo anticipo per me sì qualche piccolo merito di calzona può esserci ma non è quella la variabile determinante ragazzi io sono arrivato al punto in cui secondo me tutto quello di negativo che è successo al napoli non è colpa dei garzià non è colpa di di mazzarri e quello che adesso il napoli sta riprendendo secondo me non è tanto merito di calzona quanto semplicemente della mentalità della mentalità ritrovata la juventus purtroppo ha commesso un unico errore però e adesso ci arriviamo si è trovata di fronte un napoli nel peggior momento possibile perché un napoli così un napoli così arrembante così audace io veramente non lo vedevo dall'anno scorso e l'errore più grande della della partita del della juventus è mangiarsi occasioni da gol su occasioni da gol se non la butti dentro il napoli de due settimane fa ragazzi de prima della partita contro il sassuolo oppure de meno de una settimana fa sta partita l'avrebbe persa anche con tutte le occasioni che si è mangiata la juventus perché si sarebbe fatto schiacciare secondo me molto di più e in un modo o nell'altro la juventus li avrebbe beffati fregati ditelo come come vi pare e è un errore grave cioè blaovic si è mangiato veramente l'impossibile nei momenti anche club della partita poi se andiamo a guardare perché il primo colpo di testa arriva al minuto 10 deduce an blaovic non mi ricordo chi ha fatto l'assist forse era era chiesa che gli mette quella palla in mezzo colpo di testa sta palla che esce veramente ragazzi di un millimetro fa la barba al palo e io credo che sia anche abbastanza oggettivo ammettere che per quanto anche il napoli nel nel primo tempo abbia creato più di qualche occasioncina abbastanza pericolosa ma le occasioni più nitide più pericolose secondo me ce l'ha avuto la juventus sono addirittura tre le occasioni clamorose di dusan blaovic che dusan blaovic nel frattempo ragazzi ammonito calzona sta succedendo un po di di macello ovviamente perché la posta in palio è particolarmente elevata e ecco qui per esempio leggo verso il minuto 20 no ancora una volta una parata di meret stavolta iling junior altra occasione questa volta per per il napoli qualche minuto dopo sui piedi di di lorenzo insomma è stata una partita viva il palo di dusan blaovic ragazzi la fa tutto benissimo cioè la io perché io ho detto segnerà blaovic in questa partita giustamente il modo migliore per non segnare era prendere un palo quindi arrivarci veramente al millimetro ma la fa tutto benissimo scavalca perfettamente il portiere ragazzi la indirizza sul palo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare la sfortuna anche un po di sfortuna da parte della juventus di prendere di prendere il palo ma poi ragazzi dopo il gol che fa il napoli con una responsabilità clamorosa da parte di scesni quante volte io ho detto scesni ha salvato la juventus in tantissime occasioni stasera scesnita è mancato perché nell'occasione un gol secondo me parabilissimo un gol non così finita in questo momento ragazzi è finita in questo momento il napoli fa un colpaccio veramente clamoroso ve posso di la verità da tifoso della roma speravo non vincesse il napoli non me ne vogliate cercate di capire la la situazione della classifica se fosse stata la juventus al posto del napoli avrei detto la stessa identica cosa all'opposto avrei detto speravo non vincesse la juventus perché ovviamente è una squadra che si rifà sotto in ottica posto in europa si rifà sotto anche nei nostri confronti però oggi oggettivamente ragazzi chi vince c'ha sempre ragione se tu te mangi l'impossibile gol su gol su gol su gol e non finalizzi arriva la squadra che te punisce e che te purga e il calcio è anche soprattutto questo per una squadra che non è che dici perché qualcuno potrebbe pensare è stata una partita in cui la juve ha creato di più il napoli non ha meritato assolutamente nulla no in napoli ribadisco le sue situazioni le sue occasioni se le è assolutamente creati quindi sull'uno a uno dove quara per carità fa una magia di tutto rispetto ribadisco ma la scesni poteva sicuramente di più blaovic un minuto dopo ragazzi tu l'anno la puoi sparata tu sei in attaccante sei l'attaccante per eccellenza della juventus tu quel gol lo devi fare punto basta e stop in un modo o nell'altro e non ci riesci non ci riesci quindi la responsabilità è doppia tripla se non quadrupla perché ribadisco la juventus è stata della partita è stata all'altezza della situazione in altre situazioni questo era un pareggio scritto tutta la vita e sarebbe stato giusto quello sarebbe stato più giusto quello ma se te mangi i gol ripeto per l'ultima volta non meriti e nel secondo tempo ragazzi è questa l'analisi che va fatta il napoli de calzona non fa come fa allegri che si trova in vantaggio e si chiude così dietro però cerca di gestire il possesso della palla il possesso abbastanza sterile in realtà perché poi non affondavano o meglio la juventus era messa bene dietro non riuscivano no ad affondare il colpo definitivo che avrebbe definitivamente distrutto la juventus già a a posteriori no e la juventus continua però ragazzi a creare situazioni e occasioni abbastanza abbastanza importanti eppure cambiaso se magna un gol veramente assurdo però permettetemi di dirlo se se lo magna cambiaso uno può dire sì ok ho fatto una cappellata clamorosa ma c'è sta de più piuttosto che un attaccante che fa de ruolo che butta palloni rete e il gol simile a quello che si è mangiato vlaovic è più comprensibile quello che si magna cambiaso un altro tiro de vlaovic che meret blocca però insomma aveva tirato da posizione abbastanza abbastanza male insomma è chiesa quel colpo da biliardo io ragazzi l'ho pensato sta partita finisce così finisce sul punteggio de 1 a 1 chiesa che ragazzi tra una critica e un'altra no nell'ultimo periodo è stato criticato tra virgolette perché è un giocatore da cui ci si aspetta molto molto di più assolutamente e quindi complimenti comunque a chiesa perché all'ottantunesimo se non mi sbaglio aveva rimesso in piedi una partita e la juventus stava meritando di pareggiarla assolutamente ribadisco per le tante occasioni che ci hanno avuto più anche del del napoli qui l'errore lo commette errore tra virgolette lo commette allegri no nonge giovanissimo poca esperienza lo mette per un altro motivo ovviamente no per cercare più profondità ripeto la juventus ha giocato una bella partita dal punto di vista offensivo ricorda ineccepibile ragazzi il fallo ci sta assolutamente tutta la vita e osimena che poi clamorosamente ragazzi sbaglia dal dischetto e arriva raspatori sulla ribattuta decennia 3000 all'ora infilandosi tra un paio di calciatori della juventus e alla fine ribadisco se riesci a pure l'occasione clamorosa di rugani ma l'ho vista in diretta sapete che non mi ricordo ah sì abbiamo vista in diretta era rugani ecco non sapevo chi fosse stato a fare quell'occasione da rete e il napoli si rifà sotto per un posto in champions non lo so ragazzi perché è veramente difficile guardando attualmente quanti punti c'è al bologna ma sicuramente rientrate per potenza per un posto in europa quindi ne sta aggiovando lo spettacolo questo poco ma sicuro ma la juventus ragazzi perde ulteriori punti nei confronti dell'inter e veramente l'inter si avvia e perde punti anche nei confronti del milano e poi ne parleremo insieme al buon fabio l'inter si avvia tra due giorni a vincere lo scudetto ed è ribadisco clamoroso tutto quello che sta succedendo io vi ringrazio per la visione di questo contenuto la vostra qui sotto nei commenti ci vediamo alla prossima con un nuovo video